Ciao a tutti ragazzi, allora questo è un altro video, oggi vi recensirò mini ciccioli drappare con uovo Allora, la secce mini ciccioli, chi non ha scattato mini ciccioli Allora, così? Sono così, la secce mini ciccioli Allora, ecco questi hanno 0,14 50 pezzi E ora vi lascio il testo